È un incontro rivolto alle giovani coppie che progettano nel loro percorso di vita la nascita di un figlio. Si intitola La donna, la coppia, la famiglia, l'influenza della procreazione assistita, l'iniziativa in programma per sabato alle ore 9 alla Mediateca Montanare Memo. A presentare il convegno a cui parteciperà in videoconferenza anche il Ministro alla Salute Lorenzin sono stati il direttore dell'Ostretrice e Ginecologia del San Salvatore di Pesaro, Alberto Marabini, e il collega del Santa Croce Claudio Cicoli, il quale ha precisato che la percentuale di successo della procreazione assistita è di una su tre. È un invito quello di Cicoli a non aspettare troppo tempo perché l'orologio biologico ha le sue regole. Dai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa il 20% delle coppie soffre di questo problema. Dobbiamo puntualizzare che il massimo della fertilità nelle coppie, cioè nella donna, si ha intorno ai 20-30 anni e oggi purtroppo la ricerca della prima gravidanza si ha mediamente intorno ai 32 anni d'età, considerando che poi una buona percentuale lo ricerca in età superiore ai 37-38 quando la fertilità all'interno della donna precipita in maniera considerevole. Il convegno sarà anche l'occasione per mandare un messaggio ai politici affinché lavorino per una società più produttiva e creino un tessuto sociale che consenta ai giovani di programmare il loro futuro. In conferenza stampa inoltre Marabini ha fatto anche il punto sulla programmazione medicalmente assistita di Marche Nord. Solo la Toscana, la Lombardia e l'Emilia Romagna eseguono oltre mille trattamenti l'anno. Le Marche con il Salesi di Ancona sono invece la penultima regione d'Italia a derogare questo servizio pubblico. Erano già stati ottenuti i finanziamenti per le tecnologie e la struttura, oggi realizzate pronta dentro lo stabilimento ospedaliero a Muraglia di Pesaro ed ora la regione ha assegnato anche i fondi per il personale. Speriamo entro la fine dell'anno di poter cominciare con le prestazioni di procreazione medicalmente assistita. Il centro si trova presso l'ospedale di Muraglia, è un centro quindi completamente nuovo, in una posizione che consente ampiamente la privacy, si è guardato molto la struttura che mostrasse ed esse all'utenza un senso di serenità e tranquillità che è necessario per affrontare questo grosso problema che spesso angoscia naturalmente le coppie. Grazie. Grazie.